Allora parliamo di collegamento accertato noi sappiamo che purtroppo la tragica morte di Elisabetta Ciabani è stata archiviata come un suicidio cioè il caso è giudiziariamente chiuso poi ci sono tantissime istanze di revisionismo relativamente a questo a questa determinazione in particolare autorevolissimi inquirenti che si sono occupati di delitti delle coppiette e tra i più recenti menzionerei sicuramente Michele Giutteri e Giuliano Mignini hanno speso veramente parole di fuoco nel tentativo di recuperare e rivedere e riconsiderare questa tragica occorrenza che è stata archiviata come suicidio i termini della morte di Elisabetta Ciabani sicuramente si conoscono quello scenario lì che era stato interpretato come suicidio viene oggi e anche da diversi anni da varie fonti perché per me Mignini e Giutteri sono autorevoli quindi degni di considerazione però dobbiamo anche ricordare che questo collegamento è stato promosso in termini assolutamente inaccettabili da giornalisti negli anni indietro quindi mi chiedo se oggi questo tentativo di risemantizzazione o di rivalutazione non sia condizionato dai numerosi errori e dalle piste fumose che si sono proposte in tal senso dagli anni 90 quando giornalisti di vario tipo oltre a cui Gennaro Di Stefano e molti altri proponevano pubblicavano editoriali dove specificavano che Elisabetta era amica di Stefania ma sbagliavano il cognome portavano dati non confermati per corroborare una conoscenza fra Susanna Cambi e Elisabetta Ciobani che certamente comunque abitavano piuttosto vicino ecco la curiosità del caso Ciobani che è una morte sanguinaria è una morte insomma sensazionale tragica si consuma lontano da Firenze ma coinvolge una ragazza che abitava nel quadrante di Sayacopino cioè piuttosto vicina non solo a una vittima del mostro ma anche alle abitazioni di altre ragazze misteriose te l'ho detto te l'ho detto te l'ho detto ci sono dei giornalisti che propongono delle conoscioni assolutamente incongrue e indimostrate peraltro sbagliando il nome della Ciobani e portando una rendicontazione assolutamente abborracciata non rispondente a dati storici e confermati poi successivamente in anni più recenti illustri inquirenti come Giuliano Mignini e Michele Giuttari hanno inteso proporre anche nelle pubblicazioni da Ultimo Giuttari in recenti libri hanno inteso indicare quindi diciamo è un trend interpretativo succedaneo alla chiusura del caso come suicidio che parte fin dagli anni 90 fin dagli anni 90 e anche salve anche alcune insinuazioni giornalistiche risalenti agli anni 80 però come ben sai il caso è stato chiuso come suicidio poi successivamente si sono avanzate delle ipotesi che però a mio parere mancano di riscontri relativi all'evidenza della scena del crimine poi l'evoluzione della considerazione di questo delitto è anche andata a sposarsi col filone di lettura Narducciano per questo prima ho speso il nome del dottor Mignini in relazione a possibili collegamenti con Narducci relativamente a risultanze che risultano ovviamente fededegne e documentate cioè il fatto che la Ciabani avesse lavorato presso un albergo presso un resort dove si tenessero riunioni massoniche che avrebbero visto anche la presenza di Narducci e quindi anche questo viene ventilato come ulteriore collegamento quindi la questione del suicidio è solo cripticamente diciamo corroborata da quello che si presume essere stato un vissuto privato della ragazza secondo momenti di depressione o di turbamento seguiti anche agli omicidi del mostro esitandosi si presume in un suicidio ma questa determinazione ufficiale accreditata che rimane oggi formalmente di scalfita viene ovviamente completamente rovesciata da vari giornalisti e autorevolmente da diversi inquirenti quindi questa è la collateralità potenziale del caso Ciabani che di certo coinvolge una vittima una ragazza che abitava non solo vicino a Susanna Cambi ma abitava vicino anche ad altre ragazze misteriosamente uccise come Gabriella Caltabellotta o Miriam Escobar e qui nasce qui l'altro argomento del caso del San Jacopino File è sicuramente interessante perché il quadrante di San Jacopino presta numerosi punti di contatto con la storia del mostro di Firenze e con i cosiddetti delitti collaterali ricordiamo che il quartiere di San Jacopino innanzitutto si colloca nelle immediate vicinanze della residenza di un sospettato principe dei casi del mostro ovvero Salvatore Vinci che abita a Rifredi nella zona immediatamente insistente sul San Jacopino ricordiamo che San Jacopino era il quartiere attraversato da Stefania Pettini quando recandosi da Borgo San Lorenzo arrivava alla stazione per andare a lavorare a Novoli prendeva la linea 22 che era frequentata anche da Susanna Cambi per recarsi a Novoli dove San Jacopino sta fra Santa Maria Novella e Novoli non solo a San Jacopino risideva la stessa Susanna Cambi e risidevano altre ragazze misteriosamente uccise tra cui Gabriella Caltabellotta uccisa nell'84 e Miriam Escobar uccisa nel 72 in questo scenario nello scenario in cui Susanna Cambi Gabriella Caltabellotta e Miriam Ana Escobar nell'arco di un dodicennio vengono misteriosamente uccise allora anche la morte della Ciobani occorsa in data agosto 82 viene anche reinterpretata con il con il cogente dubbio che invece che un suicidio si tratti di un omicidio anche perché la morte di Elisabetta Ciavani è una morte violenta e sanguinaria coltellate all'alti il coltello conficcato nel cuore e con delle ferite anche al ventre quindi che richiamano suggestivamente le mutilazioni subito da Susanna Cambi ma forse è solo una suggestione e quindi a buon merito la morte di Susanna Ciavani arriva a punteggiare questo scenario tragico dei primi anni 80 per quanto riguarda il quadrante di San Jacopino io personalmente non ho nessuna autorità per esprimermi su questo caso ma dato che diciamo c'è libertà di opinione io mi schiero fermamente e convintamente fra gli interpreti della tesi suicidiaria per una serie di evidenze allora caro Gianquido non sono fra i più documentati su questo argomento conosco tre o quattro mostrologi che ti saprebbero riferire genericamente parlando appunto c'è questo elemento prodotto dal dottor Mignini che tanto tanto ha indagato sui delitti del mostro e sulla connessione con Narducci e sul versante perugino delle indagini sul mostro di Firenze e ricorda che Elisabetta Ciavane qui io insomma brancolo un po' non sono non ti produco riferimenti precisi avrebbe prestato servizio avrebbe lavorato presso un resort Umbro dove si sarebbero tenute riunioni di un gruppo massonico a cui sarebbe stato affiliato Narducci quindi questo precedente che risulta per quanto riguarda il lavoro di Elisabetta risulta pacificamente confermato avrebbe offerto lo spunto per teorizzare una previa conoscenza tra Narducci e la Ciavane o comunque l'eventuale intercettazione di informazioni sensibili delicate e pericolose e compromettenti da parte di Elisabetta che sarebbe stata dunque eliminata per essere messa a tacere in questo contesto si inseriscono ulteriori suggestioni come il rinvenimento ci sei? ti vedo sparire? stai ancora registrando? perché sei scomparso ah ok scusami continuo in questo contesto si contestualizza appunto il rinvenimento di un appunto manoscritto che è stato recentemente anche tentativamente attribuito all'ispettore Napoleoni ufficiale inquirente perugino che avrebbe indagato anche sul mostro proprio nel 1985 quindi legato alle indagini di Mignini per quanto riguarda la figura di Narducci ma sono appunto è stata fatta anche una perizia grafologica ma assolutamente inconsistenti e a mio parere per quanto il dottor Mignini abbia speso parole di conferma a mio parere non sono dati ultimativi anzi sono piuttosto suggestivi quindi questo la connection Ciabani Narducci io la esaurisco qui qualcuno te la potrebbe esporre molto più dettagliatamente ma secondo me è figlia di forti suggestioni ma appunto non ho le competenze per esprimermi oltre ti partecipo solo della mia impressione e che gli elementi prodotti per terrorizzare questo collegamento e dunque un omicidio e addirittura a mio parere è ancora meno credibile la presenza di Napoleoni immediatamente sulla scena del delitto nel 1982 quindi molto prima che chiunque pensasse a indagare a Perugia per il mostro di Firenze non mi sono risultati convincenti ma al di là della mia ignorabilissima opinione la realtà è che queste cose non hanno avuto nessunissimo esito e rimangono lettera morta purtroppo per chi ci crede fammi sapere se questi dati ti tornano la ragazza che si trovava in vacanza con dei parenti risiedeva con la famiglia a Firenze nel quartiere di San Jacopino svolgeva saltuariamente lavoretti a breve termine e ultimamente si stava preparando per un concorso alle poste seguendo tre volte a settimana un apposito corso Elisabetta mora una domenica mattina nella lavanderia sul tetto terrazzato del residence turistico Baia Saracena di San Pieri sul cui pavimento viene ritrovata poco dopo completamente nuda in un lago di sangue a ucciderla a due profonde pugnalate una al basso ventre che le apre uno squarcio di 12 cm fra l'ombelico e il pube e una appena sotto il seno sinistro dove rimane conficcato il coltello evidenze contestuali così dice ti dici sopra tanto meglio e una appena sopra il seno sinistro e una appena sopra il seno sinistro dove rimane conficcato il coltello evidenze contestuali e circostanziali portarono ad archiviare ragionevolmente il caso come suicidio il caso però venne riaperto ecco nel 96 nel 96 ecco una risposta più filologica rispetto alle domande precedenti il caso Ciabani venne però riaperto nel 96 contestualmente alle nuove indagini sul mostro di Firenze eppur senza sviluppi per tutto il trentennio seguente è stato da varie parti riproposto come presunto omicidio collaterale fino a questi stessi anni 20 allorché è stato anche da fonti autorevoli istituzionali letto e tra cui la stessa commissione parlamentare letto e contestualizzato a mio parere con increscioso fraintendimento e fantasiosa interpretazione di riperti quale omicidio dissimulato e silenziante nei confronti di una pericolosa testimone che avrebbe potuto compromettere personaggi implicati nei dilitti del mostro in primis Francesco Narducci che Elisabetta avrebbe suppostamente conosciuto lavorando in un albergo Umbro dove quello partecipava a dei convegni mazzonici posso leggere altre dieci righe? poi le tagliuzzi ora non essendo io il vostro no questo non c'entra un cazzo basti no perché facevo le polemiche basti dire che chi sostiene che sia impossibile uccidersi come fece Elisabetta deve assolutamente ristudiarsi la materia e la pertinente documentazione per riscontrare esattamente il contrario e la quasi tipicità di certe dinamiche autolesive spinte da forti slanci emotivi e motivazionali in realtà si tratterebbe dunque di un suicidio come già convenuto all'epoca e come pienamente ricostruibile Elisabetta descritta da chi le voleva bene come molto timida di carattere chiuso introverso di temperamento tranquillo posata ritirata attaccata alla famiglia riservata pudica seria brava a scuola veniva da una situazione familiare difficile e nello specifico stava attraversando un periodo non particolarmente felice solo un anno prima nel maggio dell'81 aveva perso il padre Corrado e ne era rimasta provata lasciando poco dopo gli studi di architettura al secondo anno a 22 anni non aveva amici maschi e non aveva mai avuto un fidanzato né apparentemente esperienze sessuali era inoltre possibilmente suggestionata dalla vicenda del mostro anche in quanto abitava non lontano da e frequentava la stessa parrocchia di Susanna Cambi questo l'abbiamo già detto uccisa ad ottobre precedente assieme al fidanzato l'ultimo duplice omicidio quello di Montespertoli era ancora recentissimo e forse aveva contribuito ad acquirre il latente stato di angoscia della giovane qui però vado avanti per altre venti righe e devo leggerlo ascolta ma più importante più importante è questo Gian Guido il pomeriggio del 21 agosto è lei stessa ad acquistare nell'Emporial Residence per 1600 lire il coltello marca Caimano Inox con lama da 16 cm che la ucciderà solo 13 ore più tardi abbiamo il gestore dell'Emporiale Siciliano che conferma quella sera Elisabetta la passa in camera a pulirsi e smaltarsi le unghie ecco ecco ad ogni modo Elisabetta si alza fa colazione sale in lavanderia con un secchio contenente un lenzuolo una boccetta di tersivo solvel e il coltello comprato la sera prima ancora nella confezione ecco cosa viene trovata la confezione la confezione di acquisto col prezzo sopra è sulla lavatrice arrivata sulla terrazza si toglie la maglietta che appoggia sulla lavatrice e rimasta in costume in sapone il lenzuolo e lo mette nel rotolavatore sul cui ripiano appoggia anche il tappo del solvel e la scatola in cartone del coltello caimano che viene dunque estratto dalla stessa lei lo compra lei lo estrae dalla confezione prima di morire a quel punto si toglie le ciabatte si toglie le ciabani no si toglie le ciabatte e il costume intero che restano a terra accanto a lei è rimasta nuda e scalza muore poco dopo a causa delle due suddetti orribili coltellate qui è una rendicontazione neutra scusami ti risparmio e sto zitto perché ho altre venti righe di spiegazione del delitto cioè delle ferite prego beh più ecco non direi più strano perché appunto contribuisce alla codificazione formale del modus operandi del mostro però presenta peculiarità uniche che non sono mai che non ricorrono altrimenti nella serie né prima né dopo e hai ragione come ricordato innanzitutto pertiene a un'area spaziale che non era mai stata toccata anche se l'area di Calenzano può essere riferita al Mugello in quanto non è parte del Mugello ma il comune di Calenzano confina col comune di Barberino di Mugello quindi una volta identificata l'area d'azione mugellana del mostro possiamo considerare un'uscita fuori porta la sortita a Calenzano però è un'area geografica mai toccata dal mostro né prima né dopo quindi decentrata rispetto ai cluster San Cascianese Scandiccese e Mugellano poi come dici te l'elemento più atipico del delitto di Calenzano è la sua datazione che non solo è in una stagione in cui il mostro non aveva mai colpito né mai più colpirà ovvero l'autunno ma è anche posizionata in un giorno infrasettimanale che comunque come è noto ha una valenza prefestiva in quanto precede uno sciopero nazionale quindi questi sono elementi assolutamente atipici e unici così come anche la scena del crimine presenta dei problemi di interpretazione balistica e le peculiarità uniche sono appunto come tu bene ricordavi la manipolazione del cadavere della vittima maschile che viene per la prima volta estratto dal veicolo e adagiato in un fossetto accanto alla macchina in poi c'è anche un elemento unico ma questo sicuramente non è intenzionale del mostro cioè è l'unica scena del crimine in cui si rivela si rilevano proprio e si documentano delle impronte delle impronte possibilmente riconducibili dall'assassino dubitativamente riconducibili dall'assassino e di cui vengono operati dei calchi e delle foto che sono state anche recentemente rianalizzate e in cui si è creduto di identificare uno scarpone che potrebbe essere riferibile questo è un altro elemento unico anche se di impronte si è parlato per altre scene del crimine come quella di Scopesi l'unica realmente documentata è questa per quanto detti calchi siano come molti altri reperti misteriosamente spariti si è recentemente accertato altri elementi peculiari di Calenzano distintivi di Calenzano non mi sovvengono anche se il contesto vittimologico sicuramente ne presenta ecco questa è una peculiarità che puoi attribuire al diritto di Calenzano come quello di Mosciano certo c'è l'occorrenza eccezionale ma appunto l'eccezionalità va attribuita a Calenzano perché è il secondo diritto in un anno è un'evenienza che non si verificherà mai ma queste cose vedi le puoi definire le puoi dire te visto che le sai assolutamente che me le stai ricordando a te ti rispondo perché me le ricordi te se parlassimo altre due ore potremmo tirar fuori altre piccole mazzecole ma ecco le cose per un format quello che vuoi fare le cose così importanti inevitabili poi Calenzano io sono un biblista di Calenzano quindi potremmo parlare per altre due ore parlando internos fuori dal tuo contenuto c'è anche la questione balistica è di difficile interpretazione ci sono due verbali che riferiscono cose diverse sui bossoli repertati sulle loro posizioni questi sono incongruenze che comunque puoi riferire ogni delitto alle sue problematiche interne in itself e poi c'è questa questione vittimologica che Susanna Cambi abitava vicino a Elisabetta Ciabani un'altra cosa erano presso che coetane e frequentavano la stessa parrocchia al di là dell'abitare vicino è il frequentare la stessa parrocchia in quel periodo storico che può giustificare non siamo qui per negare il fatto che loro si conoscessero è un'opzione molto possibile per quanto nei parenti della Cambi nei parenti della Ciabani abbiano potuto ricordare una cosa del genere hanno smentito che si conoscessero però appunto non è che te vai a dire a tua madre a tua padre a tutte le persone che saluti per strada quindi la comune frequentazione della parrocchia potrebbe i loro appunto i funerali celebrati nella stessa parrocchia da Don Don Zey da Don Zey possono appunto suggerire una conoscenza fra le due ragazze questo di sicuro sì 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 loro frequentavano la stessa parrocchia e si è si è ventilato si è speculato che potessero conoscersi che dunque Elisabetta avrebbe potuto essere uccisa perché a conoscenza siccome sappiamo che tutte le vittime molte delle la maggior parte delle vittime femminili del mostro poco prima di morire avevano fatto presente delle loro conoscenze di essere stato gesto di molestie di stalking di di pedinamenti sia Stefania che Pia che appunto Susanna anche su Susanna sappiamo questo quindi un'eventuale pregressa amicizia con Elisabetta aveva lasciato supporre che Susanna avesse potuto confidarsi con Elisabetta relativamente a un molestatore che avrebbe potuto essere teoricamente individuato identificato da Elisabetta e che dunque sarebbe stata per questo sarebbe stata per questo uccisa e ci risulta proprio di sì ci risulta assolutamente sì che entrambe frequentassero sì lì si sono celebrati i loro funerali e frequentavano la parrocchia così ci è detto così è riportato dai giornali quindi questo è un elemento di congiunzione che si aggiunge alla oggettiva vicinanza delle rispettive residenze la Cambi stava in via Benetto Marcello e via Scarlatti poi negli ultimi giorni nelle ultime settimane mentre invece Elisabetta me lo dovrai ricordare te dove cazzo abitava in via di Ponte o via di Ponte o comunque lì in zona ecco bravissima bravissima via Ponte all'asse lì negli immediati pressi in via circondaria risiedeva questo mettilo in Saiacopino se vuoi negli immediati pressi delle loro abitazioni risiedeva in via circondaria quindi vicino sia alla Cambi che alla Ciabani che alla Caltabellotta che a Salvatore Vinci abitava anche Claudio Maruccelli un guardone missino che nel 73 spara una coppietta però nel 73 appunto lui negli anni 80 sì frequentatore di Vaiano dei campi dei campi neri suppostamente allievo di Giampiero Vigilanti in questi campi paramilitari fascisti è un altro personaggio per questo che diciamo che aumenta il margine di sospetto del quartiere di San Jacopino è un personaggio che risiede appunto fra Casa Vinci e Casa Cambi insistente su San Jacopino che aggiunge un profilo di sospetto alla zona così come ti ho già citato la linea dell'autobus 22 che era frequentata sia da Stefania che da Susanna e Stefania riferisce a un certo punto di essere seguita da un personaggio dalla stazione di Santa Marinovella fino al posto di lavoro a Novoli quindi ci sono tutte queste considerazioni micro locali e altre su San Jacopino se c'è un dossier potrebbe spendere un ulteriore dossier ma queste sono le cose più importanti più immediate che mi vengono in mente sempre tenendo presenti anche i delitti Escobar del 72 e Caltabellotto dell'84 a danno di vittime femminili giovani che abitavano anch'esse nel quartiere di San Jacopino quindi c'è una curiosissima concentrazione statistica di femminicidi di delitti sanguinari a danno di giovani donne residenti nella zona di San Jacopino per la maggior parte risolti o quasi esclusivamente irrisolti visto che anche il delitto di Calenzano non ha un giudicato definitivo quindi tutte queste vittime non hanno un colpevole inclusa e esclusa da Ciabani inclusa e esclusa Susanna Cambi puoi elencare Escobar rimane uno dei delitti senza giudicato come Rabatta e Mosciano poco a voi poco a voi interessa che a suo tempo Pietro Pacciani venne condannato anche per il diritto di Calenzano ma appunto solo per estensione non è che vennero sì gli venne accollato mi rivolgevo mi rivolgevo genericamente all'audience ideale ma infatti infatti mi sto dando la zappa sui piedi perché anche Mignini e Giuttari cioè la mia convincimento è figlio è eredità delle investigazioni di Mignini e Giuttari non è che l'ho capito io la penso come loro quindi questo e io ci ho parlato di persona con Giuttari mi ha dato udienza mi ha regalato due ore della sua vita e anche lì lui ha insistito come sul libro Ciabani così come manipolazione 82 inserzione di proiettili del 68 depistaggio mi ha detto io poi ho il mio convergimento lui mi ha detto questo poi mi ha detto Pacciani ammazzato e anche io lì poi mi ha detto Ciabani ammazzata e anche io